Ladies and gentlemen, benvenuti a questa nuova recensione. Oggi parleremo di questo film, una storia vera del regista David Lynch. Di che cosa parla questo film? Di due anziani fratelli che non si parlano più da tempo, che praticamente sembrano odiarsi. A un certo punto, uno di due ha un infarto e l'altro, il più vecchio di due, quello che cammina malamente, malfermo, quasi zoppo, decide devo andare a trovare mio fratello. E siccome non ha medici, siccome non ha neanche più la patente, che cosa fa? Beh, lui praticamente prende un vecchio trattore e parte con questo trattorino facendo un lungo viaggio, un viaggio impossibile verso il fratello malato. Di che cosa ci parla questo film? Perché dovremmo andare a vedere questo film? Perché ci parla di legami, quei legami di sangue che ci toccano tutti, quei legami che alla fine ti trovano sempre.